Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video outfit si lo so ne avete già visto uno ieri però questo è un video che dovevo fare da tempo in collaborazione con Riccardo Riccardo Dixie su Youtube ciao e intanto vi lascio il link del suo outfit il link del suo video outfit e soprattutto del suo canale sotto nell'info box praticamente fa dei video promossi e bocciati, video haul outfit, anche video tag e quindi io lo saluto tantissimo e lo ringrazio tantissimo per la collaborazione perché dovete sapere che io non faccio distinzione per collaborare, cioè non vado a vedere gli iscritti o altre cose solamente chi vuole collaborare con me deve avere un po' di pazienza perché ho tantissimi ho tantissimi video già in programma poi tra gli altri impegni capirai e niente allora lui ha fatto un video outfit per una giornata d'estate sui toni pastello, molto carino appunto andatela a vedere e io ho fatto un sì, sempre un video outfit estivo da giorno però non da giorno tipo dalle 3-4 del pomeriggio praticamente verso dalle 6 in poi infatti sono le 8 e mezza di sera io sono già uscita e devo riuscirci però ragazzi è veramente veramente super semplice io ve lo dico già e come vedete già dalla collana c'è qualche tocco di blu elettrico perché ve lo sapete io non amo per niente il blu elettrico comunque passiamo appunto all'outfit allora come accessori ho innanzitutto immancabile mono orecchino quello con il oddio non so come inquadrare ecco così quello con il gufetto poi l'ultimo accessorio è questa collanona proprio questa qui blu elettrico quindi questa poi come vestiti allora innanzitutto innanzitutto è super semplice questo crop top bianco fatto così a canotta e poi dei pantaloncini così a vita alta altissima proprio cioè arrivano sì poco più su dell'ombelico con il risvoltino e poi come scarpe ho messo le zeppe oggi per il giorno avevo messo sempre le infredito bianche di ieri però appunto per uscire adesso tra un po' ho messo le zeppe bianche mentre come borsa ne ho scelta una blu che vi faccio vedere e un'altra cosa che vi faccio vedere è praticamente un non un giacchino una blusa sempre blu elettrico perché qui da me sta iniziando a fare il gelo all'improvviso dopo cena per cui è il caso che io non mi ammaglia all'improvviso così io odio essere raffreddata odio raffreddare più delle altre malattie altre cose quindi cioè se tira un filo di vento io proprio ciaone ecco praticamente con la blusa e la borsina allora la borsa è questa qui sì in camera sembra di un blu un pochino più chiaro rispetto alla blusa però il colore è veramente molto simile e appunto la blusa molto leggera è questa qui blu elettricissimo dal vivo è molto più più scuro dal vivo è tutto diverso comunque va bene e niente io spero che questo video vi sia piaciuto mi piego un attimo per salutarvi io saluto innanzitutto Riccardo grazie mille per questa collaborazione io spero che il video vi sia piaciuto questo outfit era super semplice però mi sono persa leggermente in chiacchiere vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao